Innanzitutto sono molto contento di aver potuto venire, di fare questi due giorni di conoscere la squadra da vicino e allenarla. Ho trovato un buon clima, ho tanta voglia di lavorare, tanta voglia di crescere. Penso che c'è una buona intensa. Siamo all'inizio ma sono contento del weekend. Tanti già si conoscono, il gruppo c'è alla base dell'anno scorso e i ragazzi nuovi penso che si sono subito agganciati ai vecchi, c'è un grande clima, c'è anche Marcello Fornik, un ragazzo esperto che anche lui sta dando un bel contributo al gruppo. Li vedo bene ragazzi assieme a lavorare con tanta voglia di crescere. È bello l'impegno della Repubblica cieca, l'avevo già preso, non voglio desdirmi, quindi devo tornare e fare il lavoro anche là. Tornarò il prossimo weekend appena ho libero là, torno qua per allenare di nuovo i ragazzi.